Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, questa sera voglio ringraziarti per tutta questa settimana e per avermi portato qui, prima di questa notte, a portarti la mia preghiera. Signore, fai meraviglie del mio cuore, perché io, grazie al Tuo amore, posso dare valore a tutto quello che ho intorno a me. Allontana da me i pensieri e le azioni che non portano a nulla nella mia vita o portano al male. Grazie, perché anche ora sei qui, con me, a darmi un'altra dimostrazione dell'amore che Tu provi per me. Tutto ciò che vivo, lo faccio perché lo decidi Tu. Perché Tu sei il mio padrone, il padrone della mia vita e del mio cuore. Signore, voglio fare la Tua volontà in ogni momento, camminare dove vuoi. Aiutami a non deviare, a fare sempre il bene, affinché guidato e motivato da Te, io sia un discepolo secondo il Tuo cuore. Manda ora i Tuoi angeli a custodire il mio riposo. Metti delle sentinelle sulla porta di casa mia. Coprimi con il Tuo manto e fammi sentire la Tua tenerezza e la Tua protezione. Non c'è posto migliore che stare nelle Tue mani, che sono le più amorevoli, tenere e morbide e allo stesso tempo forti, che vogliono solo proteggermi e accompagnarmi. La Tua misericordia fa di me un essere pieno di virtù per affrontare la vita e uscirne vittorioso in Te e con Te. Buonanotte Gesù, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.